Guarda come andà, oh Padre, questi tuoi figli, che si offrono per il servizio nei vari ambiti della pastorale. Confermati nel loro proposito con la tua benedizione. Nella maestosa cornice della cattedrale di San Pantaleone Martire a Vallo della Lucania, un'atmosfera di profonda emozione ha accompagnato la celebrazione speciale per catechisti, professori di religione e missionari, chiamati a rinnovare la loro vocazione e a ricevere un segno tangibile della missione che portano nel cuore. La cerimonia, preseduta da Don Giovanni in sostituzione del vescovo, assente per motivi di salute, ha visto la partecipazione di numerose sacerdoti della diocesi, venuti per testimoniare con la loro presenza la vicinanza e l'unità del clero. A rendere ancora più serenne l'evento è stato il coro della diocesi diretto dal maestro Maurizio Iacovazzo, le cui voci hanno risuonato con intensità e levendo i cuori in un canto di speranza e fede. Nel corso della celebrazione ogni partecipante ha ricevuto una croce benedetta, simbolo di dedizione e fede. Il rito di consegni è stato particolarmente toccante. I missionari, i catechisti, e gli insegnanti, in fila davanti all'altare, hanno atteso il proprio turno in un silenzio carico di significato. Le croci, posate con cura e devozione sul petto di ciascuno, hanno rappresentato non solo un gesto di benedizione, ma anche un impegno rinnovato a portare avanti il messaggio evangelico. È un incontro attesissimo da noi catechisti e quindi aspettiamo che il Vescovo ci dia la sua benedizione per iniziare questo nuovo cammino pastorale quest'anno con i bambini del catechismo, della comunione e confessione. Lei da dove viene? Cassessa Lorenzo, in provincia di Salerno. Parrocchia San Giovanni Battista e il nostro parco Don Domenico Sorrenti. Quindi da quanti anni tu sei catechista? Da 13 anni. Quindi ne ho visti bambini che con entusiasmo volevano ricevere questo sacramento e noi con tutta la nostra umile, non so come spiegarti, dedizione a questi bambini, li portiamo fino al sacramento. Allora, questa sera qui in Cattedrale grande incontro. Voi da dove venite? A Capaccio Pestum, parrocchia di Capaccio Capoluogo. San Pietro Apostolo, Capaccio Capoluogo. E come vivere, insomma, questo percorso di catechesi? Io sono anni che lo faccio ed è un percorso bello perché non insegniamo, però diamo ai ragazzi e riceviamo dai ragazzi. Diciamo che è uno scambio tra loro e noi e quando li portiamo poi a ricevere il sacramento finale è un'emozione, è un'emozione per loro ma è un'emozione anche per noi che li abbiamo preparati. Lei è anche un docente di religione, oltre ad essere un catechista, e quindi il suo percorso di vita è professionale. Ecco, con me, da un punto di vista introspettivo. Allora, io cerco sempre di seguire i miei ragazzi anche al di fuori della scuola, perché poi molti di questi me li ritrovo anche nei percorsi di catechesi ed è qualcosa di molto entusiasmante ed interessante, perché poi c'è una risposta positiva da parte dei ragazzi che ti gratifica molto. Io sono qui come insegnante di religione e anche come catechista. Quest'anno è anche l'anno del giubileo, cioè prestiamo a vivere l'anno del giubileo e in parrocchia vogliamo sperimentare una forma nuova di annuncio, mettendo insieme le due parrocchie vicino, Pellare e Moio, proprio per curare i ragazzi e preparare per loro un itinerario di fede che approderà, non sappiamo quando, poi al sacramento della Cressima. Per il resto ci stiamo attrezzando, no? Una bella comunità di educatori, ecco, non sono i catechisti singoli, ma è un gruppo di persone intanto che si vogliono bene e che vivono tutti i momenti in parrocchia, in comunità e che stanno insieme e che collaborano, quindi i ragazzi saranno affidati non alla singola persona, bensì a un gruppo di educatori.